Annoiatevi con giudizio, semplificate il tempo libero, non trasformate le passioni in ossessioni, non abbiate fame di fama e si comincia presto e anche nell'esibizionismo da riunione aziendale, non rinunciate ad ascoltare e soprattutto collezionate buone abitudini. La sesta T di quest'elenco, tenerezza, siate morbidi. Essere morbidi vuol dire dare la possibilità alla nostra testa di lavorare da sole in qualche modo. Se teniamo le nostre menti occupate come i bagni degli autogrill sulle autostrade d'agosto, le idee nuove non avranno mai il tempo di entrare. Vi siete mai accorti che le idee sorprendenti, le intuizioni arrivano in momenti come questi, sotto la doccia, in bagno, in aereo, nel dormiveglia, cioè nei momenti in cui non telefoniamo, non rispondiamo, non mandiamo messaggi, non clicchiamo. Dobbiamo liberare ram cerebrale, non sempre, in certi momenti, in modo che il nuovo abbia tempo di entrare e di sorprenderci. Il punto fondamentale è che il nostro cervello è più intelligente di noi e dobbiamo dargli il tempo di dimostrarlo. Quindi sei, tenerezza, siate morbidi.